Dunque, è passata un'altra settimana, i numeri crescono, si sa tutto, ovviamente ne parleremo e in questa contabilità in qualche modo è entrato anche il nostro editore Urbano Cairo ricoverato in via precauzionale in ospedale, un applauso a Urbano Cairo, un bocca al lupo un bocca al lupo e a presto per rendere gli omaggio in una maniera migliore Super Spot, 60 secondi e torniamo qua tra poco Grazie